Sono 50 i cittadini che stamani hanno effettuato il tampone nella postazione Drive Thug che da oggi è allestita in piazza della Costituzione a Montemurlo. Il servizio, il primo del territorio da inizio pandemia, è gestito dalle sezioni di Montemurlo e di Oste della Misericordia di Prato. L'iniziativa è frutto di un accordo tra l'Arci Confraternita e la Stoscana Centro per ampliare l'offerta di test Covid sia molecolari che antigenici. Servizio molto importante che va a coprire una necessità che abbiamo visto forte in queste ultime settimane a seguito dell'aumento dei contagi. A 360 gradi abbiamo cercato di essere il più vicini possibili alle persone, ai nostri cittadini e questo lo abbiamo fatto anche grazie al supporto delle nostre associazioni di volontariato che sono stati in tutti i frangenti nelle varie attività fatte davvero fondamentali. Con il bacino d'utenza che abbiamo qui a Montemurlo era necessario appunto ampliare questo servizio perché purtroppo i contagi non accennano a diminuire. Sono impegnati circa 4-5 volontari tutti i giorni. Questi potranno anche variare in base alle richieste giornaliere che ci può essere. Il drive-thru è aperto da venerdì a lunedì dalle 8.30 alle 12.30. Per accedere occorre avere la ricetta medica e prenotare la prestazione sul portale regionale, non solo. Qui ci possono venire anche i bambini delle scuole. Sì, infatti i bambini potranno accedere senza appuntamento, naturalmente con il voucher che è stato mandato loro via mail, vengono qui con il QR code senza appuntamento e possono naturalmente fare il tampone.